La partita dell'andata è completamente diversa da questa che abbiamo visto oggi. La partita dell'andata è stata due partite in una, perché nel primo tempo l'Udinese si era fatta preferire, aveva avuto anche un paio di occasioni, mentre nel secondo tempo probabilmente abbiamo fatto il tempo peggiore di tutto il campionato. Siamo stati travolti da un Verona in grande fiducia. Questa partita di oggi invece è stata una partita tosta, gagliarda, molto fisica, con due squadre che provavano a vincere la partita, con due squadre che l'avevano preparata molto bene sulle idee anche dell'avversario per togliere qualità e spunti all'avversario. Ne è venuta fuori una partita nei 90 minuti molto continua, molto tosta. Se ci fosse stato un episodio da gol in una o nell'altra parte, sarebbe cambiato tutto in un secondo. Nell'economia della classifica e anche del percorso dell'Udinese in questo giugno di ritorno, secondo lei è chiaro, si è giocato per vincere, ma possiamo dire che è un punto prezioso? Di fatto abbiamo giocato contro una squadra in grandissima salute. Questa cosa del come trovi le squadre, in che momento trovi le squadre, sappiamo, fa molto la differenza. Ci sono momenti di alto e basso. Il Verona sta attraversando un momento fantastico, mette in difficoltà tutti, anche le grandi squadre, come abbiamo visto recentemente. Proprio le mette in difficoltà in campo, riesce ad andare a Roma all'Olimpico e presentarsi in area di rigore 10 volte, 15 volte, andare al tiro in porta. Oggi è stato parzialmente disinnescato il Verona. È stata una partita di grande equilibrio, di grande corsa, di grande contrasto, dove si è voluto concedere da tutte e due le parti il meno possibile. Se ne ha parlato prima della gara col Brescia di guardare il sole o guardarsi le spalle, adesso la classifica si è anche molto accorciata. Forse questo dà ulteriormente valore però al pareggio di oggi? Non lo so, perché noi eravamo consapevoli anche prima che le squadre che c'erano là sotto, proprio per il tipo di squadre che sono, sono squadre che hanno la potenzialità di fare parecchi punti. Quindi non ci siamo sentiti prima al sicuro, in salvo e non ci sentiamo adesso retrocessi. Insomma abbiamo il nostro percorso, dobbiamo cercare di pensare a noi, di pensare a fare più punti possibile noi, a usare le nostre qualità al meglio. Dal punto di vista dell'atteggiamento dei ragazzi, non credo ci sia qualcuno a cui si può dire che oggi non ha dato il 100%, non ha provato a mettere in campo tutto quello che aveva. Già partire da questa cosa significa aver fatto uno step di mentalità, perché questa cosa sta succedendo con una piacevole continuità. Al di là poi dei risultati che si susseguono, il fatto che i ragazzi abbiano questo tipo di atteggiamento, insomma mi sembra una bella base sulla quale costruire le prossime 14 partite.